A tutte le unità segnalo la posizione di un bersaglio strategico. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Fornire fuoco di supporto contraereo! Fornire fuoco di supporto contraereo! Ho bisogno di supporto aereo! Grazie per la visione! Fornire fuoco di supporto contraereo! Fornire fuoco di supporto contraereo! La nostra squadra è in vantaggio! Fornire fuoco di supporto contraereo! Fornire fuoco contraereo! Fornire fuoco contraereo! Fornire fuoco contraereo! Sì, sì. Catturate quell'area. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì.